Salve a tutti, benvenuti a Unpisi Massimo Esperti, oggi parleremo di Sabo, il capo di Stato Maggiore dell'Armata Rivoluzionaria, un personaggio molto importante ai fini della trama sicuramente, sia per il presente che per il futuro, soprattutto essendo lui il braccio adesso di Dragon, ha ora un ruolo centrale in quella che sarà la guerra finale contro i Draghi Cevesti, governo mondiale, la Cyber Pool, la CP0 e soprattutto Im Sama. Oggi parleremo sia del suo livello combattivo, del suo livello di forza secondo il nostro punto di vista, sia da quello che potrà apportare diciamo a livello proprio di importanza in filo diretto in modo parallelo con il nostro capitano Mocchi di Rufi e anche delle ultime vicissitudini accadute negli ultimi capitoli come abbiamo visto, come abbiamo letto. Naturalmente porteremo avanti alcuni approfondimenti, alcune teorie che non sono ancora presenti naturalmente ma che proveremo noi a darvi una chiave di lettura in base alle informazioni che abbiamo raccolto dentro il manga e attraverso anche l'anime volendo e tutto il resto della correlazione del mondo di One Piece. Per parlare di Sabbo però dobbiamo fare prima un passo indietro, sarò celere. Dobbiamo arrivare un attimo indietro di qualche saga, arrivano a Marineford. Dopo la morte di Ace, papà bianca parlando con Teach dice che non era lui la persona che Roger stava aspettando e così come qualcuno porterà avanti la volontà di Roger, quindi riferendosi palesemente a Rufi, sarebbe arrivato qualcuno in futuro a portare avanti la volontà di Ace. E qui ci ricolleghiamo poi al flashback che vediamo perché precedentemente non si conoscevano tra Rufi, Ace e Sabbo quando erano bambini che sono cresciuti insieme e Sabbo si dava per morto prima degli altri, mentre invece era sopravvissuto da quello che sappiamo ed era stato preso sotto l'ala protettrice del più grande e enigmatico personaggio di tutto One Piece, cioè Monkey D. Dragon, il capo dell'armata rivoluzionaria, l'uomo più pericoloso al mondo, secondo la Marina e il Governo Mondiale, l'uomo che vuole sconvolgere quello che è l'equilibrio alla pari di Rufi, ma in un certo senso solamente nella direzione del rompere quello che è il potere dei draghi celesti, questi fantocci che abbiamo visto essere sotto il potere di Im-sama. Noi sappiamo che Sabbo è un nobile, a meno di nascita, nasce nel regno di Goa, poi scappa di casa, si vergogna di essere un nobile e non vuole più vivere con loro. Dopo l'incidente è venuto con il Drago Celeste, dove si dava per morto, è entrato a far parte dell'armata rivoluzionaria perché Dragon lo salvò e lo portò con sé. Lui sappiamo essere abbastanza forte, anzi penso fortissimo, e già da bambino oltre ad allenarsi con Hak, l'uomo pesce, arrivava anche a allenarsi con Kuma, che abbiamo visto tutti a Sabbao, prima dei due anni di allenamento, quanto fosse forte, e lui già da bambino dimostrava grandissimi segni di forza e di abilità, anche nello studio e in tutte le altre cose, tanto da diventare poi il braccio destro di Monkey D. Dragon. Naturalmente sappiamo che sicuramente si sarà allenato anche con lui, a dimostrazione anche dei suoi poteri mostratici a Dresselosa. La sua taglia conosciuta è di 602 milioni, molti potrebbero dire bassa rispetto a tanti altri pirati come Cracker, come Perospero e così via, ma io ci tengo a dire come ho fatto spesso in live, la sua taglia potrebbe anche rilevarsi bassa rispetto a loro, ma c'è una piccola differenza, che come sappiamo, come il confronto che fecero con Luffy e Kid, è che molti pirati per la loro carneficina, per le vittime delle persone, dei cittadini, vengono portati con delle taglie molto alte. Lui essendo un rivoluzionario che salva solo i popoli, non ha mai commesso strage, non ha mai fatto dei danni di questo livello e quindi è un problema sia per il governo, ma non per la collettività delle persone. Inoltre noi sappiamo che è davvero fortissimo, ha una grande abilità combattiva, l'abbiamo visto anche e soprattutto nel Colosseo con l'artiglio del drago combattendo contro Burgess lo riesce a fermare facilmente dimostrando che il suo agito della armatura è superiore a quello del sottoposto di Ticci e soprattutto quando dice che ogni cosa ha un centro e ha un cuore, ha un'anima, riesce a distruggere il Colosseo con il respiro del drago, il Ryusei Ken. Noi abbiamo pensato, vedendolo anche nell'animazione ma anche nel manga, che questo potesse essere l'Aki che Rufy si sta prestando ad apprendere, che oramai ha preso a pieni poteri questo Aki finale, questo qui che permette di distruggere dall'interno le cose e che lui sia già su questo tipo di livello dell'Aki dell'armatura. Poi dopo che ha mangiato il frutto Mera Mera, che possiamo ritenerlo diciamo un vantaggio, uno svantaggio nel combattimento con Fugitore, nel senso che lui non aveva ancora preso a pieni i suoi poteri, doveva ancora imparare ad utilizzare bene, perché c'è una dimestichezza con il frutto, c'è gente che quasi c'è nata con il frutto come Rufy. Nonostante questo, nello scontro con il viceammiraglio Bastille, Sapo distrugge prima la sua spada, Shark Cutter, la trancia squali, e poi quella maschera che lui portava dicendo che gli avrebbe voluto distruggere il cranio, la testa, come se fosse un uovo. Poi dimostra grande forza anche contro Bruges, sembrava che gli volesse distruggere la testa anche se Bruges sembra molto più resistente rispetto a Bastille, ma appena Bruges lo vuole provare a colpire con il suo pugnale, coltello, secondo me per rubargli i frutti, infatti vi rimando al mio video su come Barba Nera permette di rubare i poteri agli altri, i poteri dei frutti del diavolo naturalmente, ma lui dimostra di avere anche lì un grande achi della percezione, si scansa e poi fa un bellissimo I can, she can, un bel pugno di fuoco e lo manda un pochettino a dormire come si dice nel ricordo del grandissimo Portugese di Ace, protagonista mancato della volontà ereditata, sempre un grande personaggio che ha fatto una fine traccia. Volete fare l'ultimo approfondimento, sempre parliamo di Estrosa e poi passiamo agli ultimi capitoli che è lo scontro con Fuggitora. Ci tengo a farvi notare una cosa se non l'avete già fatto, ma siete sempre molto attenti, quindi è solamente un ricordo che dovete fare. Nello scontro con Fuggitora, prima Fuggitora si è scontrato con Rono Azzore, il grandissimo spadaccino che ha mai ottenuto la Emma, ma sfidandolo, se vi ricordate bene, con la sua potere della gravità riesce a far andare Zoro, diciamo, proprio in un fosso, in un creatore, anche se poi Zoro con due fendenti riesce ad uscirne, eccetera, eccetera, e si ristabilisce, insomma, sul pavimento normale. Però quello fa denotare che comunque, preso da scopo vista, Zoro va sotto la gravità. La stessa cosa avviene sul finale con Rufy, però a differenza di Zoro, Rufy non va a finire proprio in un creatore, ma va a finire a terra. Poi il nostro capitano, come ho sempre detto, come sempre dirò, essendo un genio del combattimento, dà una testata chizzata a terra e si ristabilisce in piedi, come se nulla fosse. Se notate quindi lo scontro fra Sabo e Fuggitora, invece, dove Fuggitora usa, diciamo, il suo potere, il suo frutto, applica anche su di lui la pressione, vedete Sabo che rimane immobile e fermo, nonostante il potere dell'ammiraglio. Due iniziano lo scontro, Sabo quindi si dimostra più forte, più resistente, almeno in quel momento, rispetto a Rufy normale e a Zoro e cominciano a combattere. Quando poi più volte, più riprese, Fuggitora inizia a usare più volte questa situazione della pressione, naturalmente Sabo fa uso del frutto Meramera per, diciamo, diventare fiamme e quindi andare oltre quello che è il suo normale potere. Lo scontro è stato molto breve, quindi non abbiamo voluto vedere appieno tutti e due all'opera al massimo livello, però io ci tengo a ripetere che secondo me Sabo, da quello che noi possiamo dire, è sul livello di un ammiraglio. Più o meno su quel livello lì ci sta e adesso che ha preso in Meramera è più forte che mai. Ci tengo a ribadire pure che lui era già il capo di Stato Maggiore dell'armata rivoluzionaria prima che lo mangiasse, quindi a denotare che lui stesse sopra a persone come Ivankov, forse Bartolomeo, adesso abbiamo conosciuto Lindbergh, Morley, Carasu, lui stava sopra a tutti e secondo solo al grandissimo monche di Dragon e un motivo ci sarà, anche perché noi poi faremo un video sul grandissimo Dragon, pensiamo che Dragon sia sul livello preso singolarmente di un imperatore, sicuramente. Detto questo quindi la taglia è bassa, ma lui non fa stragi dei civili, ma li salva, anche se è un nemico del governo mondiale, è sicuramente fortissimo. Oda l'ha voluto inserire per dare una continuazione a quello che era EIS, la volontà ereditata e quindi il Meramera no mi, il legame con Rufi, perde un fratello e viene da un altro, ma era un'importanza rilevantissima ai fini della trama, ai fini delle ultime battaglie, ai fini di molte cose, per la giustizia che deve prevalere sull'inganno, sul tradimento, su un trono vuoto che in realtà è occupato da persone, da una persona che non dovrebbe essere su quel trono, perché non ci può essere un re del mondo, ma ci dovrebbe essere solo il re dei pirati, l'uomo più libero del mondo. E ora passiamo all'ultimo capitolo, 956, quello che è avvenuto, avete visto, con la giustizia del secondo atto, all'esterno del mondo, fra Reverie e queste cose qui, vediamo un pochettino qual è la nostra chiave di lettura sulle notizie che sono trapelate attraverso Big News Morgan, gli incidenti, gli assassini, eccetera, che sono avvenuti lì a Reverie, in quel di Mary Joyce, Mary di Joe, Mary Joyce, come preferiti. Allora, probabilmente le infine che volevano far sì che venissero insabbiate dalla cyber pool relative al regno tale bassa dell'incidente di Sabo, potrebbero essere queste, ascoltate le nostre chiave di lettura. Potrebbe essere che hanno fatto passare la notizia della morte di Sabo, ma non ci convince del tutto, perché secondo noi, al 100%, Sabo è vivo. Un'altra notizia importante potrebbe essere che Sabo, si è stata a Mary Joyce, ha dichiarato guerra ai draghi celesti, scontrandosi con gli ammiraggi per salvare Kuma, ma poi è stato andato per disperso. Resta da vedere come è finito lo scontro tra gli ammiraggi e la parte della madre rivoluzionaria, ricordiamoci che insieme a Sabo c'erano Caraso, Lindbergh e Morley, e Morley è in grado di scavare, quindi probabilmente saranno scappati sotto terra. Ma una cosa grave è che Mary Joyce, la Pangea, la città dove il territorio dove nessuno può entrare se non invitato e non solo i regnanti e quindi gli ammiraggi, è stata penetrata, cioè c'è stata un'infiltrazione da parte del rivoluzionario e questa è una macchia molto pesante sia per il governo mondiale che per la marina. Sabo potrebbe essere, secondo il nostro punto di vista, andato insieme via, portando in Sabo vivi dalla CP0 e secondo noi quello che potrebbe essere morto è il recobra. Magari ha portato con sé anche Bonney che era lì alla ricerca di Kuma per una vendetta, addirittura se fossero riusciti a portare in Sabo Kuma sarebbe stato uno smacco clamoroso per il governo mondiale, ma questo non ci ha ancora dato a saperlo. La nostra speranza futura è la seguente, speriamo di rivedere Sabo molto presto, magari anche Boa Hencoc, entrambi a Wano, a Damanfot, al nostro Rufi, visto che si sta prestando ad affrontare ben due imperatori che sono Big Man e Kaido e quindi se Sabo è una parte dei rivoluzionali che sappiamo, oramai le notizie sono già da tutti i mondi a saputo che il fratello sarà l'incontro a una guerra clamorosa, potrebbe avere il senso che lui possa intervenire e anche Boa Hencoc, una volta che sarà sciolta la frotta R7, potrebbe fare altrettanto. Quindi il nostro auspicio è di vederlo molto presto e in azione a Franco di suo fratello. Mi raccomando pirati, seguiti sempre e al prossimo video da Monke D e da tutto, One Pisi Massimo Esperti.